La maggioranza di Palazzo Marino si divide sulla figura di Julian Assange. Nel corso del Consiglio Comunale di giovedì sera l'Aula ha affrontato il dibattito su una mozione della consigliera dei Verdi, Francesca Cucchiara, che chiedeva al Comune di conferire la cittadinanza onoraria al fondatore di Wikileaks e di esprimersi contro l'estradizione negli Stati Uniti che una corte inglese ha ordinato lo scorso 20 aprile. Il dibattito che ne è scaturito si è consumato tutto all'interno della maggioranza. Il Partito Democratico ha presentato un emendamento in cui si chiedeva di eliminare il conferimento della cittadinanza onoraria e di modificare la richiesta di condanna dell'estradizione, sostituendola con un più generico sostegno a favore della libertà di informazione. Alla prova dell'Aula l'emendamento è passato, anche se ovviamente con il voto contrario dei Verdi, che chiedevano di mantenere quantomeno la condanna dell'estradizione. Il testo definitivo, dunque molto ridimensionato nei contenuti, è così stato approvato con 27 voti favorevoli, inclusi quelli dei Verdi, che hanno deciso di prendere ciò che passava in convento, non nascondendo però una grande delusione per il completo smantellamento della loro proposta.